Buongiorno a tutti, grazie per la presenza, saluto tutti i cittadini di Siano, diciamo che abbiamo l'emergenza alle spalle, non dobbiamo abbassare la guardia perché siamo arrivati ad una fase 3 che comunque ci consente di non essere proprio tranquillissimi, perché come avete tutti ben notato, ieri di nuovo sono un pochino saliti i contagi in Regione Campania. I sianesi però si sono comportati benissimo, a Sian non ci sta nessun contagio e dobbiamo ringraziare le forze dell'ordine, Comando Stazioni dei Carabinieri, Comando Polizia Municipale e i volontari che ci hanno dato una grossa mano. Un comportamento corretto è stato adottato anche dai nostri concittadini che sono arrivati dal nord, che hanno fatto la quarantena, sono stati controllati dai vigili urbani e dai carabinieri e siamo stati disponibili come Comune ad ogni problematica che loro potevano avere e ringrazio anche chi invece non è sceso ed è stato lontano dalle famiglie in questo periodo. Ripeto, a Siano fase prima e seconda è stata superata bene e anche dal punto di vista sociale non abbiamo lasciato nessuno, diciamo che sono contento per questa cosa. La popolazione di Siano ha collaborato tantissimo, a parte le restrizioni e le ordinanze abbiamo avuto un grosso senso di responsabilità, quindi ci è voluta sempre anche la fortuna che non deve mancare mai, ma la tenacia da parte dell'amministrazione, dei volontari, dei cittadini, dei dipendenti comunali hanno fatto sì che non abbiamo avuto problemi dal punto di vista sanitario e dal punto di vista, ripeto, sociale sono stati comunque seguiti dai servizi sociali, dai funzionari che hanno risolto anche problema sociale nella fase di chiusura delle attività commerciali, infatti mi corre l'obbligo di ringraziare anche i commercianti a cui siamo stati vicini, soprattutto quelli che hanno abbassato le serrande in questi mesi e poi man mano dal 27 aprile in poi, man mano siamo andati con l'apertura, perché volevo ricordare che la mia amministrazione nel quarto anno che ha rinunciato all'intenità di carica e che quest'anno l'abbiamo destinata all'emergenza Covid-19 e fino al 31 maggio abbiamo sospeso le rateizzazioni, la Tari, il pagamento delle strisce blu e abbiamo adottato anche provvedimenti a favore dei commercianti che in futuro anche sia per lo spazio pubblico e per altre attività andando incontro soprattutto a chi è andato in difficoltà e alle famiglie bisognose che ci sono, che abbiamo seguito non solo in emergenza ma che abbiamo seguito, seguiamo e seguiremo anche in seguito. Come tutti sappiamo abbiamo questa fase chiamata 3 dove ci sta questo spostamento interregionale, però dall'ordinanza pure Iri del Presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca che ringrazio che ha gestito l'emergenza nei migliori dei modi, a parte quella sanitaria ma anche quella sociale con il contributo alle imprese di 2 mila Euro, con il contributo acquisto di strumenti informatici, con il contributo fitto emergenza Covid, la regione è stata proprio vicina a tutti i cittadini campani e con la misurazione della temperatura corporea all'uscita dei caselli autostradali, presto le stazioni ferroviari, ai porti, ogni cittadino che comunque arriverà a Purassiano verrà controllato dal comando Polizia Municipale e staremo comunque sempre a disposizione per qualsiasi problema che non solo chi arriva da fuori, ma anche chi è presente che potesse avere. Io credo che non sia proprio superata la fase di emergenza, il problema è sempre dietro l'angolo, però dobbiamo anche essere chiari e dire che da 3 settimane a questa parte, con i contagi che sono stati sempre in misura inferiore rispetto al mese di marzo e aprile, possiamo essere più tranquilli senza abbassare la guardia. Noi abbiamo sollecitato l'Asla già nel mese di aprile, dove abbiamo fatto i tamponi alle due strutture sanitarie presenti sul territorio, ai responsabili e agli operatori, dove sono risultati tutti negativi, abbiamo fatto i tamponi ai dipendenti comunali, al comando Polizia Municipale e ai volontari a Inizi di Maggio, dove sono risultati tutti negativi e quindi l'altro giorno poi con la Croce Rossa, dove Siano è stato comunque sorteggiato come comune per i test rapidi, dall'indice Istat sono stati sorteggiati 61 persone per i test rapidi, dove si sono presentati circa 27 persone e dove aspettiamo i risultati ed è stato un altro passo in avanti dove ad oggi non abbiamo avuto nessun problema, nessun contagio e nessun caso sospetto. Come tutti sappiamo un sindaco non può fare provvedimenti diversi da quelli di un organo superiore, ci atteniamo comunque alle disposizioni delle ordinanze regionali, fermo restando che grossi problemi, se non quelli nella seconda fase dal 4 maggio, dove le persone purtroppo dopo quasi due mesi rinchiusi in casa si sono un pochino rilassati, però sempre con il rispetto delle regole e siamo stati comunque in giro a sollecitare di fare attenzione, sempre con i carabinieri, i vigili urbani attenti per evitare qualsiasi tipo di problema. Le attività commerciali di riapertura hanno fatto il loro corso, stanno andando in ripresa e si sono comportati anche bene, aspettando le regole che la legge prevede.